Non mi era mai successo, era uscito da pochi giorni, fu ritirato dalle librerie perché c'era stata una causa di uno dei protagonisti del libro che era l'avvocato Cesare Previti e si riteneva diffamato, non so perché, abbiamo fatto 13 anni di tribunale, ho vinto e alla fine è stato ristampato. Nel libro uno scandalo sessuale, un triplice omicidio che vede coinvolti i tre personaggi della Roma Bene degli anni 70 e poi un inserto fotografico attraverso il quale gran parte degli italiani si fa wire, così è stato Luca Tellese con il suo libro La Marchesa, la Villa e il Cavaliere ad aprire gli appuntamenti targati Associazione Cultura Nazionale nel 2024. Una grande storia di costume italiano, la prima volta nel 1970 che c'è uno scandalo sessuale che esplode sui giornali arrivano foto di questa donna nuda, bellissima, vengono trafugate, stampate riviste clandestine insomma la Marchesa Casati Stampa fu in quel tempo un grandissimo caso perché era tante cose insieme era l'Italia che usciva dal boom economico e cominciava a conoscere i vizi, i peccati, la diversità rispetto alla tradizione era una grande storia mediatica e poi era un giallo perché quando i poliziotti entrarono dentro questa casa a Via Puccini nella Roma bellissima dei Parioli c'erano tre cadaveri, la porta era chiusa a chiave e nessuno capiva che cosa fosse successo e perché, quindi raccontare, a me piace lavorare sugli archivi, sui giornali ovviamente faccio un lavoro giornalista, non sono Garzia Marquez ma mi piace moltissimo raccontare insieme a una storia il tempo che quella storia racconta e quindi noi siamo diventati gli italiani di oggi più moderni, più lussuriosi, più se volete spericolati perché siamo passati attraverso questa grande rottura del costume è un po' di più